In gergo carcerario si chiama battitura. È il modo in cui i detenuti manifestano insofferenza o contrarietà. Battono ripetutamente qualsiasi oggetto contro le sbarre delle celle per fare rumore. È la forma di protesta avviata stamattina dai detenuti della casa circondariale Bassone di Como, all'interno della quale il clima sembra piuttosto teso. Al centro delle polemiche vi sarebbe una diatriba sulle telefonate concesse ai detenuti. Ogni ospite della casa circondariale può chiamare quattro volte al mese a casa. I padri di famiglia con bambini sotto i dieci anni, in passato, potevano effettuare qualche telefonata in più, previa autorizzazione dei vertici del carcere. Proprio su queste concessioni e su ulteriori limitazioni negli incontri con gli avvocati, si concentrerebbero i malumori dei detenuti, che hanno anche chiesto un incontro con la direttrice della struttura. Una protesta che arriva al culmine di un periodo già abbastanza delicato. Alla fine della scorsa settimana erano state bruciate alcune lenzuola, forse sempre come forma di protesta. E di recente, al Bassone di Como, si sono registrati due suicidi.